il gruppo è compatissimo in questa fase il gruppo è la curva prima di affrontare la seconda è stata la donna per contestare 6 a 10, punti in paio, avventi, attenzione punti in paio 2 punti in concorrente 270, bossi, caldo in un punto con il concorrente 47, mezzo di Andrea questo è il primo punto di messa a segno sul traguardo del meno 6 il giro in termine sul prossimo traguardo il gruppo si sta già allungando c'è già una lunga protesta della formazione di avventi ha guadagnato 2 punti concorrente 974, mezzo di Marco e ha guadagnato 1 in concorrente 370, bossi, riccardo non aveva 2, sarà a quota 3 punti conquistati siamo già in prossimità della grado di quattro e presto la pace ulca sulla tattatura che sta sostenendo questi eventi in gara per affrontare questa prova stiamo avvicinando un punto di messa a segno grazie a 2 punti concorrenti ai 3 città la confusione altri punti d'avvicinando 3 si ripete nella nuova situazione del passaggio precedente per tanto il concorrente che non è giusto se 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 non è giusto un punto per il concorrente numero 24 che è maschile e non è vero 1 sarà a quota 2 questo dopo verso un altro città o in età d'altra stanza siamo compatti in prossimità del mezzo al termine la breve sarà a 2 giri alla confusione per questa incredibile finale a punti che ci stanno accettando l'antica per io segno siamo in prossimità dell'ultimo giro di scutata davvero di questa finale a punti per la mia segna la mia stanno adesso fuggendo per un bel giro sottoccolimento con la spia della gabbana l'ultimo giro è una parola per i due punti concorrente 277 Brottonesio i primi suoi due punti in questa gara un punto l'organale concorrente 274 Bedone Marco Fissami metà la sigla con 7 punti 4 punti per Fossi in caldo e 2 punti a testa per Brotto Alessio cremarsi sulle nuovea proverbi sulle nuovea proverbi sulle nuovea dai vieni là principalmente prima del trequarto finale che stiamo vivendo insieme in questo istante gara in questo istante incredibile disputata vede grandissima velocità con estrema corporezza davvero questi atleti che stanno a passare a aggiungere merito davvero il nostro consenso vinciata regalato davvero una prova davvero davvero spettacolare complimenti a tutti gli interpreti di questa bellissima gara davvero merito suzmante molto piccino